A Giulianova il candidato sindaco sconfitto, Pietro Tribuiani e il suo staff sembrerebbero essere orientati verso il ricorso per il riconteggio dei voti. Nella sede municipale da ieri si è insediata la commissione elettorale nominata dalla Corte d'Appello dell'Aquila, chiamata a verificare la regolarità dello scrutino e del ballottaggio di domenica scorsa. Anche se i sei componenti della commissione potranno prendere atto solo della giustezza o meno dei verbali di scrutino, i cui dati dovranno coincidere con quelli in possesso dell'ufficio elettorale municipale. Rimane comunque il rammarico perché veramente abbiamo fatto una campagna elettorale molto pulita, non abbiamo fatto promesse elettorali che non potevo mantenere, quindi diciamo nonostante ciò, prima di esprimere e di rispondere alla tua domanda, mi corre l'obbligo a ringraziare i 4619 elettori che mi hanno dato fiducia. Quindi non mi sento sconfitto perché 30 voti non può essere sicuramente questa la, diciamo, per me è una vittoria a prescindere. Per quanto riguarda il ricorso è vero perché ci sono stati qui dati, ci sono state praticamente la bellezza di 298 schede nulle e 154 schede bianche, quindi sono tante, 298 schede nulle in un ballottaggio. Sinceramente non lo so adesso, non so cosa faremo, se faremo meno ricorso mi sembra ancora prematuro, ne parlerò con i coordinatori dei partiti e insieme prenderemo una decisione in comune e condivisa. Nel frattempo il neosindaco Ivan Costantini è già al lavoro come preannunciato e si dice tranquillo sulla possibilità di un riconteggio. Siamo già al lavoro, siamo in comune, stiamo iniziando a fare i passaggi di consegne e stiamo vedendo tutte quelle che sono le varie operazioni da fare per cercare di metterci nel minor tempo possibile in moto. Giovedì pomeriggio ci sarà la proclamazione, quindi da quel momento siamo ufficialmente operativi e possiamo iniziare ad operare e cercare di fare nel minor tempo possibile un'aggiunta e convocare il primo Consiglio Comunale. Noi abbiamo controllato i verbali, non ci sono schede contestate da parte della coalizione di Tribuiani, quindi qualsiasi considerazione la lasciamo al nostro competitor. Sui verbali non ci sono schede contestate, quindi sappiamo che fa fede quello che si è riportato sui verbali, altrimenti è veramente complicato fare un riconteggio. Comunque siamo sereni perché per esempio sappiamo perfettamente che in alcune sezioni del Lido sono state annullate in una sezione addirittura 26 schede a noi e noi le abbiamo verbalizzate, quindi abbiamo diverse schede noi sui verbali che invece potrebbero essere buone. Io penso che sia arrivato il momento di pensare al Ministro della Città, la campagna elettorale è finita, bisogna abbassare i toni, bisogna cercare di mettersi tutti a disposizione, anche le opposizioni, per cercare di regalare delle risposte nel minor tempo possibile ai cittadini. Grazie. Grazie.